Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Tonin ha recepito almeno in parte attraverso nove emendamenti le osservazioni emerse dall'ascolto delle parti sociali. Critiche e opposizioni che hanno lamentato l'inutile accelerazione impressa all'esame del testo che non ha permesso di approfondirne i contenuti o di apportare eventuali modifiche. Sulla base della nuova legge la provincia assegnerà 17 concessioni, oltre 100 milioni di euro all'anno, i canoni di utilizzo stimati che saranno fondamentali per il bilancio provinciale. Se ne riparlerà nella prima seruta utile di Consiglio. Sospensione della prima rata dell'IMIS per tutti, aumento degli investimenti per accelerare e semplificare i contratti, slittamento del versamento dei tributi per lavoratori ed operatori economici, semplificazione del pagamento dei contributi e delle istruttorie per l'erogazione degli incentivi alle attività economiche. Sono queste alcune delle misure contenute nel disegno di legge 50 elaborato dalla Giunta provinciale per fronteggiare i pesanti effetti del coronavirus su famiglie ed imprese. L'ha approvato con una sola stensione la seconda commissione permanente e sarà discusso in una seduta straordinaria di Consiglio giovedì 19 marzo. Il volume delle misure è stimato complessivamente in circa 250 milioni di euro. Il Presidente del Consiglio Walter Casvalder ha disposto le norme per regolare l'attività del Consiglio a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, sospensione fino al 3 aprile prossimo delle sedute consigliarie di commissione, ad eccezione di giovedì 19 marzo, per la trattazione del disegno di legge urgente per fronteggiare la paralisi dell'economia dovuta al virus. Le sedute consigliari saranno a porte chiuse, distanze interpersonali di un metro, ammessi solo giornalisti e un collaboratore per ogni consigliere.